Non te la prendere, hai fatto così, lo sai. Lui vi hai fatto male. Conviene che impara a vivere. Non sono più un ragazzino, che prendo per me la chiede quante poi insomma faccio il muro. Che pretendi? Che cambia 60 anni? No, pretendo, pretendo che mamma non calcazzo. Perché stavolta si fanno a cazzate pure pure, faccio come dico io. Si preoccupa, ha paura che fanno a cazzata. Ma tu di cazzate non ne fai, vero? Sei grande, non sei più un ragazzino. Dico bene. Ma allora papà c'è una ragione, sei stato te. Sono stato io, sì. Allora? Ora che vuoi? Che ti dicono Ave Maria e mi metti in penitenza? O ti do 20 grammi e mi do la indulgenza plenaria? Eh? Tanto funziona così in questa famiglia del cazzo. Siete peggio dei preti. Basta che si salva la faccia. No, basta che si salva il nome. Il nome. Hai capito il no? Che noi siamo il nome che portiamo. Noi siamo quello che facciamo. E io che ti ho ancora difeso. Ma che ti ha chiesto niente? Ho fatto tutto io, sono affari miei. No, non sono affari tuoi, sono affari di tutta la famiglia adesso. Perché non me l'hai detto? Te ne rendi conto di che cosa hai fatto? Quelli. Quelli a te ti ammazzano. Magari. Magari che ci provano pure. Che lo facciano pure.